santo stefano di magra frantoglio lucchi e guastalli aspettando li vedi aperti olio tour seguiteci ciao marco leonardo ma che posto stupendo che hai hai visto che sono 22 due ettari di olivetti due ettari di vigna e 80 alveari di api questa è la nostra produzione olio vino e miele questi sono i testi delle scherpade piatto tipico che è una torta di verdura particolare questa la faremo assaggiare ai nostri ospiti in occasione di olivetti aperti verranno i ciclisti dei gruppi di ciclisti e gli faremo assaggiare l'olio insegneremo anche la tecnica di assaggio col bicchierino sì credo che sarà una bella esperienza per chi viene grazie a tutti vi aspettiamo tutti quanti a olivetti aperti 18 e 19 giorni